Ciao bimbi, oggi la maestra Vale vi vuole portare in un posto speciale che è proprio qui, a fianco a casa mia venite Ciao caprezze, siamo arrivati con la mamma, sì Leonida guardate le piccoline, care hai vinto, che carino, che caro, caro tanto dolce bravo Leonida, vai anche tu, che bravo sono golosissime di queste carotine guardate bimbi, questa è una delle caprette più piccole, che tenera e si lascia fare anche tante coccole queste caprette hanno veramente tanta tanta fame dimmi bravo amore vai vai anche tu wow si riempiranno la pancia con le vostre cose capretta litigano tutti litigano per avere l'erba si, io te la prendo per tutti abbiamo scoperto che le caprette sono ghiotte di erba cipollina e la bianca la sta cercando l'erba cipollina è una cosa da mandare da mangiare alle caprette solo che è da da cipolla se l'erba zucchina non sa da zucchina sa da peperone da peperone guardate la capretta cosa sta mangiando adesso il berretto di leonida oh oh nel mio fratellino per favore ce la puoi passare capretta? che non sappiamo come raggiungerla e questa capretta cosa sta facendo? sta succhiando il latte dalla sua mamma ciao capretta amore quale capretta vorresti portare a casa? quella nera quella nera che ha bevuto prima il latte quella nera? che ha bevuto il latte? guardala che cucciola vieni qua piccolini queste caprette che si rintanano qua sotto che furbette sono molto furbe così si allontanano dalla massa e mangiano tranquillamente sono molto intelligenti bravo che c'è quella tutta senti senti che verso è il caprone questo è il papà vedete bimbi in questa fattoria ci sono tantissime varietà di caprette ci sono quelle piccoline quelle più grandi ce ne sono di nere bianche marroni di tutti i tipi sono proprio tutte simpatiche ma soprattutto quello che abbiamo scoperto è che sono molto ghiotte molto ghiotte di erba cipollina ciao ciao caprette noi andiamo ci vediamo domani ciao bimbi spero che le caprette vi siano piaciute continuate a seguirci mi raccomando allontateci a condividere la magia del fanciullino con tanti tantissimi bambini condividete questo video con 10 amici e iscrivetevi al nostro canale youtube il fanciullino ciao 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 ciao